Ricerche di boschi, sentieri di giorno, di notte, palcoscenico, è un tessuto di orecchi in ascolto capaci di fare suono. Gli uccelli sono attenti a cercare cibo, hanno modimento di volo, forze e visioni. Gli uccelli sono attenti a cercare cibo. Gli uccelli sono attenti a cercare cibo. La voce della selva è meravigliata. Forse tutte le voci sono selva. E' meravigliata. La voce della selva è meravigliata. E' meravigliata. E' meravigliata. E' meravigliata.